A lì fiamme, pronte a bollare! E continuare la nostra avventura che non è ancora finita, quindi c'è una partita ancora più difficile di quella appena affrontata. Quindi mi raccomando, anche per quest'oggi lasciate tantissimi pollicioni all'insù, ne ho sempre di più bisogno perché le partite diventano, come ho detto un istante fa, sempre più complicate. E per affrontare questa nuova partita, questa nuova squadra, dobbiamo entrare nell'autobus qui di Inazuma Eleven. Quindi ragazzi, siamo pronti? Iniziamo, insieme, questa nuova avventura. E infatti appena entravo c'era subito una cutscene che... cosa... Aha, eccolo, c'è Wolfram! E tu da dove sbuchi? Mi sembrate delle persone divertenti e ultimamente sono così annoiato che mi si sono smussati gli artigli. Combattere al fianco di Simeon non è male, ma il mio branco ha bisogno di molta più azione. Me lo ricordo, lui. Questo cos'è? Consideralo come un invito. Ti permetterà di sfidare me e il mio branco. Quindi, a te la scelta. Non so nemmeno chi sei. Mi chiamo Wolfram Vulpin. Credo si dica così. Unico discendente di un'antica e onorata dinastia. Sono un tipo paziente, quindi prendetevi tutto il tempo che volete. Ci vediamo. Anche se è un ultravoluto e come sappiamo vivono poco, quindi se aspettiamo troppo, lui non c'è più. Questa giornata sta diventando sempre più strana. Arion, che succede? Ok, ci sono già tutti. Pronto, Arion, ci sei? Oh, Riccardo, Victor, non mi avevo visti. Apparsa un'altra persona a dir poco strana. Ha detto che è un invito. Immagino che dovremmo vedere se funziona con la macchina del tempo. Hai ottenuto scritti dell'icantropo. Ok. Signori, direi di inserirlo nella macchina del tempo e vediamo che cosa succede. Ok, l'ha riconosciuto. Regno dei lupi. Signori, andiamo proprio nel loro regno. Parla con l'allenatore Ivan, se è il nostro solito obiettivo che non rispetteremo mai. Signori, siamo pronti ad andare? Vediamo un po'. E finalmente si chiude questo cerchio. Cioè, tutto lo schermo inferiore è pieno di roba da andare. Prima c'erano degli spazi vuoti. Adesso, finalmente, possiamo andare in un sacco di posti. Regno dei lupi. Gli iscritti dell'icantropo conducono in questo luogo illuminato dalla luna piena. Direi di andarci. Quattro, tre, due, uno, partenza! E andiamo, signori. Prepariamoci per questa sfida da lupi. Andiamo. Uh, molto tenebroso. Va bene, andiamo. Secondo me comunque siamo abbastanza bravi per poterli sfidare. Eccolo qui. Guarda un po' chi si vede. Quindi tu sei un amico di Simeon? Amico? Non proprio. Voglio dire, lo conosco, ma... Non sono il tipo che si affeziona. Sono un lupo solitario che va per la sua strada. Siamo in buoni rapporti, però. Quindi tu hai a che fare con gli oltrovoluti, o sbaglio? E ciò fa di te un nostro nemico. Che intuito! Sapete, non dovremo combattere. Ormai è troppo tardi. Vi ho lanciato la sfida, voi l'avete raccolta, e ora siamo qui. Eh, deciso, sì. Quando siete pronti, fatemi un ululato. Vi darò una bella lezione. Signori, io direi che siamo pronti. La nostra squadra è sempre la Crono Storm al completo. E direi di sfidare Wolfram. Siete pronti a giocare? Sì. Bene, cominciamo la partita, allora. Ah, uuuuh. Fino adesso non ho mimato, non ho doppiato i suoi ruggiti, ma questa uuuuh ci stava. Allora, la squadra ovviamente è sempre la stessa. Vediamo la loro formazione, sono molto curioso. E quindi schieriamo il nostro 3-4-3 con l'allenatore Evans. A supportarci. Impugna lo stilo. Ci siamo, signori. Crono Storm, livello 73. Ululo Lunare, 70. Ci siamo. Ci siamo, il livello è quello. Sono sicuro che loro saranno comunque molto forti, quindi andiamo immediatamente ad elencare le due formazioni. Con la Crono Storm che schiera tra i pali. Il solito JP in difesa, Sor, Gabi, Goldi a centrocampo, Faye, Arion, Riccardo, Rioma in attacco, Victor, Zanark e Sol. Andiamo avanti. La Ululo Lunare, schiera tra i pali, Cantrup, Fus e Derrer in difesa. Solo due difensori. Poi abbiamo un mediano, Garrow e un centrocampo foltissimo con Oman, Selene, Wu, Bullet e in attacco un tridente, Trope, Kayon e Wolfram. Allora, loro in effetti in difesa sono in pochi. Al centrocampo c'è tantissima densità, un po' come il nostro schema, la nostra formazione. Quindi è quasi speculare e direi che è molto interessante come cosa. Stadio Licantropo, signori, si comincia. Si comincia. Pronti per la sfida finale, ancora una volta. Sempre sfide finali che decidono tutto l'universo. Si gioca, iniziamo noi, calcio d'inizio, passiamola indietro. Iniziamo immediatamente con il nostro solito JP, con Liu Bei. In modo tale che io posso fare un paio di passaggini e posso immediatamente utilizzare anche un altro spirito guerriero, Miximax. Direi che se riusciamo... Ok, no. Ok, andiamo con Victor. Victor! Ok. Vediamo se riusciamo a superarli. Colpi in serie. Colpi in serie. Ok, perfetto, l'abbiamo superato. Colpo critico 388 contro 328. Signori, signori, ci siamo? Lo sapevo che lui faceva spirito guerriero. Ok, andiamo con Victor. Lo sapevo che si preparava il portiere. Uh, Koro Koro! Il giornale giapponese, con tutte le novità dei videogiochi. Contro il maestro spadaccino Lancelot. Andiamo ad utilizzare anche Okita. Perfetto. Andiamo a Miximaxare il nostro Victor. e andiamo a sfondargli la porta, signori. Pronti via! Vediamo se riesce a parare questo angelo perduto. Vai! 817! Angelo perduto! Attenzione! Vediamo se il portiere para oppure no. Yes! Signori! 1-0! 1-0, signori. Calmi, calmi, calmi. Le abbiamo colte alla sprovvista, non se l'aspettavano. Quindi ancora può succedere di tutto. Sono sicuro che succederà di tutto. Ma dobbiamo rimanere calmi. Dobbiamo rimanere assolutamente calmi. Andiamo a prendergli il pallone. Ovviamente loro non si fanno pregare. Uh, ha perso il pallone. Ok, vai Victor! Allora, facciamo così. Facciamo così. Galleria del vento. Aia, vince la trivella infuocata contro la galleria del vento! Pazzesco! Pazzesco, non me l'aspettavo. Ops, ok. Peccato. Non sono bravissimi nel controllo di palla. Attenzione però! Attenzione! L'ho visto già quasi in porta. Andiamo ad utilizzare Brunilde. Ok, non è Wolfram. È Asura, cacciatore di gloria. Va bene. Noi rispondiamo con il nostro Gabi nazionale. Valkyrie, apporta bandiera Brunilde. Io direi di utilizzare anche il Miximax con Gabi. In modo tale da avere la difesa e il difensore centrale. Bello tosto da superare. Uh, subito va in porta. Ok. Andiamo con la mano del Colosso. Per pochissimo comunque non ci è arrivato Gabi. Fiamme volanti. 693. Veramente sta volando. Oh mio Dio! Ok. Dovrebbe essere un po' meno di... Un po' meno di 600 volevo dire. Invece no. 618. Colpo critico! JP! Attenzione! Tira fuori gli attributi! Attenzione a JP! Attenzione a JP! Perché sono... Ok. Tattica speciale. E... Direi di utilizzare il Virtuoso Vulcanico. Mamma mia! Vince il Virtuoso Vulcanico contro la Luce Sacra! Grande Riccardo! Datela a Victor. A Sol. Allora facciamo così. Victor vai più avanti possibile. Tu vai di qua. Scivolata scintillante. Cioè vince sorpresa solare. Contro la scivolata scintillante che era versione 4. Ok. Va bene. No pensavo di prendergli il pallone prima. Spirito guerriero. Eh io già ce le ho tutti e tre. Un altro tiro? Garas maestra delle illusioni. Non capisco perché... Dai vallo a prendere. Ok. Eh... Facciamo il segnale delle Valkyrie. Sì. Attenzione! Utilizza immediatamente l'armatura. Vediamo scivolata scintillante. Contro il segnale delle Valkyrie. Vince scivolata scintillante. Signori. Attenzione. Attenzione. Perché arrivano in porta così. Colpo critico. Ecco perché ha vinto. Allora. Eh... Io non posso più... Non posso più... Tenermi... Aia. Questo è... Ariatina Zuma signori. Ariatina Zuma. Bellissimo l'Ariatina Zuma. Una tecnica di tiro in 3. 697. Non so onestamente se JP ci riesce a pararlo. Atalanta difensore da terra. Vai con l'armatura. Vai con l'inno dei tre regni. 615. Non è impossibile. Però JP giustamente fa il suo. E quindi complimenti a JP. Complimenti JP. 1 a 1. Bene. Bene. Bene nel senso... È tosta. È tosta. JP complimenti. Perché come al solito sei sempre una risorsa. Allora qui loro due hanno entrambi la... L'armatura. Cioè... Allora lei ha l'armatura. Lei ha l'armatura. Lui ha lo spirito guerriero. Facciamo che giocherello un pochettino in difesa. Facciamo che giocherello un po' in modo tale da fargli finire l'arma... Fei. Fei. Ora tu spiegami un passaggio di quel tipo perché non dovresti prenderlo. Ok. Facciamo sfondamento. Ormai con questi più o meno so come comportarmi con le rimesse laterali. Ragazzi mi sa che devo andare avanti con lui il più possibile e poi in caso utilizzare l'armatura. Eh dopo sarà tosto comunque perché dopo arrivo direttamente. Facciamo così. E torno un po' indietro. Ok. Perché sono sicuro che... Che il portiere altrimenti mi ruba subito il pallone. Allora. Seconda armatura nostra. Vediamo se riusciamo a toglierglielo. Cioè o meglio non farcelo togliere. Ho sbagliato. Asura contro l'Ancelot. Colpi in serie. Ok. 707. Ottimo. Bravo Victor. Ok. Proviamo il tiro. Impedo doppio. Signori. Impedo doppio. Vediamo se riusciamo a segnare. Ci vuole il 2 a 1. 860. Non è male. Sfera di porpora. 721. Yes. 2 a 1. Ok. 2 a 1 signori. 2 a 1. Allora concentriamoci ovviamente perché il 2 a 1 ancora. In più secondo me Wolfram ha ancora l'asso nella manica. Lui stesso sicuramente farà qualcosa. Ora sfruttiamo immediatamente il nostro Victor. togliergli il pallone. Ancora l'Ancelot contro Asura. Si rinnova questa sfida. Che le taglienti. Stavolta è il contrario. Dobbiamo togliergli il pallone. E ci riesce mi sa. E ci riesce. Vamos. Allora. Qua ce ne togliamo di mezzo 2 con i colpi in serie. Vamos. Vai Victor. Vai Victor. Ok. Si va. Allora io penso che quel portiere forse adesso utilizzerà... Se ci arriviamo ovviamente. Utilizzerà l'armatura. Noi abbiamo comunque l'impedeo doppio che è davvero forte. Tattica speciale. Tattica speciale. Allora. Direi di fare questa. Ok. Riflettore 3D. E vince contro la luce sacra. Però lo voglio su Victor di nuovo. Ah ce l'ha Fei. Ah. No. Va bene. Facciamo così. Wizz Airi. Superalo. Ok. No. Dai. Dai. Non mi fare sprecare Fei. Fei sta giocando malissimo. Fei sta giocando veramente malissimo. Perché non sta facendo niente. Ha perso quel pallone prima. Adesso non è riuscito a superarlo. Fei sta giocando veramente male. Attenzione. Wolfram. Si è trasformato in un lupo. Quello è il Miximax. Questa è l'heritata della luna. Inchinatevi davanti a me. Oh mio Dio. Aiuto. Help. Allora non fategli passare la palla. Ok. Gli è finita l'armatura. Una nota positiva in tutto ciò. Ok. Uh. Anche lo spirito guerriero. Sarà sempre Wolfram. Vediamo se Gabi riesce. Fenrir. Belva infuocata. Vai Gabi. Allora. Allora. Io direi di fare di nuovo il segnale delle Valkyrie. Vai. Fenrir. Belva infuocata. Armatura. Oh mio Dio. Cerchio dell'oblio. Vediamo quanto. Sì. Grande Gabi. Grande Gabi. Segnale delle Valkyrie. Ottimo. Colpo critico. Mamma mia. 1300. 1300. Fine primo tempo. Uh. 1300. 1300. Mamma mia questo colpo critico di Gabi mi ha salvato. Mi ha davvero salvato. Guardate quell'armatura quante è enorme ragazzi. Guardate quante è enorme. Victor va a togliergli la palla subito. Instant. Che le taglienti. Vai. Ancora Lancelot contro Sura. Questa sfida proprio per tutta la partita. La vince. Victor. Ancora una volta. Ok. Vamos. Non so se ci arriviamo in porta eh. Non so se ci arriviamo. Sol. Tu in caso. Prova. Non so se arriviamo in porta con l'armatura. Sarebbe una brutta cosa non arrivarci. Perché dobbiamo segnare un altro gol. Diciamo. Chiamiamolo della sicurezza ma. Ok. Colpi in serie ancora. Ok. Manca pochissimo. A Victor. Dai Victor. Dai. A 18. Eh. Tirerò un po' da lontano mi sa. Ok. Colpi in serie ancora. Victor. Davvero forte il mio Victor eh. No. Non ha tirato. Ha tirato normalmente. Era troppo forse troppo lontano. Dai. Sol. Anche tu. Mi deludi. Aia. Questa è brutta. Questa è davvero brutta. Spirito guerriero. Cosa fa la. Eh. Allora volevo vedere. C'ha Sor lì dietro. Accanto. Mmm. Sor lì accanto. Potrebbe. Potrebbe servirmi un altro difensore. Con lo spirito guerriero. Sì. Sì 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 sì. Asura cacciatore di gloria. Armatura. Ok. Vai Sor. Vai Sor con Jaguar. Guerriero preistorico. Ci arriva prima comunque Gabi. Va bene. Va bene. Allora. Adesso. Voglio vedere a chi passarla dopo. Eh ma sono tutti molto molto marcati. Eh ho paura di sbagliare il passaggio. E sarebbe grave come cosa. Sempre se riesco a togliergliela. Allora facciamo intanto comunque così. Con lui in caso torniamo indietro. Segnale delle Valkyrie. Brunilde contro Asura. Sfondamento. Segnale delle Valkyrie. Io non ho più parole per Gabi. Io non ho più parole per Gabi. Troppo 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 forte. Tattica speciale. Eh non ho più niente. Non ho più niente. Luce sacra. Dovevo tenermela. Uh l'hanno sprecata? L'hanno sprecata? Allora mi sa che devo utilizzare comunque l'armatura. Adesso. Ok. E poi facciamo così. Facciamo così con Arion. E la passiamo lì davanti. Se riusciamo a superarlo. Croce di fuoco. Vai. Dai Valkyrie. Dai Valkyrie. Oppure potrei andare avanti comunque con lei. Potrei andare avanti e sfruttarla fino alla fine. Con un croce di fuoco che comunque non è male. Mi sa che farò così. Mi sa che andrò più avanti possibile. Questa è tostissima. Questa è tostissima. Proviamo. Fenrir contro Brunilde. Attacco. E vince croce di fuoco. Ok. Perché non ha utilizzato tecniche. Grande Gabi. Grande. Man of the match. Gabi. Almeno per adesso. Dobbiamo segnare ancora però. Non basta. Non basta. Allora facciamo così. Miximax. Ne ho ancora? No. Non ce ne ho più perché va bene. Facciamo allora così. Sfruttiamo ancora Victor. Per il tiro dopo. Vai con croce di fuoco. Cercherò di arrivare più avanti possibile con Gabi. Con la croce di fuoco. Poi la passo a Victor. E tirerà lui. Ok. Ok. Croce di fuoco. Perfetto. Dai, 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 dai. Bene. Ok. Uh. Gli è finito lo spirito guerriero. Bene. Bene. Vai. Ok. Gli è finito anche a lui. Va bene. Vai. 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 Devi segnare. Devi segnare Victor. Devi segnare. In pedo doppio con Gabi. Se lo merita. Se lo merita. Anche questa volta. 627. È buono. È buono. Coro, coro. Poderoso dragone. Armatura. Questa è tosta. Non so. Mani esperte. Vediamo se la para. La parata. Ok. Grandissimo Gabi. Grande. Grande Gabi. Non so se ha un tiro Gabi però. Proviamo il tiro con lui. Ok. Proviamo di nuovo il tiro. Di nuovo in pedo doppio. Ed è tipo l'ultima volta che posso farlo. 627. Però un po' più lontano. Mani esperte. 576. Yes. Per 10. Per 10. Yes. Per 10. Yes. Bravissimo Victor. Bravissimo. Ottimo. La strada è in discesa adesso. La strada è un po' in discesa. Per noi. Allora. Proverei ancora un attimo con Victor. Lì davanti. E invece no. Va bene. Ora non si potrà muovere Victor. Ok. Allora. Torniamo un attimo indietro. Rioma. A chi posso passarla avanti? A Sol. Presa frattale. No. Va bene. Anche per un bel po' no eh. Dai Gabi. Dai Gabi. Poi passa la fake. Sembra un po' da solo. La flam. La flam. Uh. Fallimento. Attenzione. Potrebbe esserci un gol. Potrebbe esserci un gol qui. Proviamo comunque l'inno dei tre regni. Ah ma è un tiro normale. 539 un tiro normale comunque eh. Forse segna. Bravo JP. Bravo. Un tiro normalissimo. JP proprio. JP non ce la fa. JP non ce la fa. Allora. Facciamo così. 3 a 2. Però è una bella partita in questo modo. Schema. Mettiamo Sor qui e Gabi di lato. Va bene. Eh a questo punto partirei con con Sol in attacco. Eh sì facciamo così. Facciamo così. Spirito guerriero. Andiamo con Sol. Ok. Facciamo girare un po' palla. Ok. Passiamo la Rioma. Passiamo la Sol. Miximax. Ce l'ho la possibilità di usarlo vero? 2 su 3. Perfetto. Andiamo con Zuge Liang. Vai Sol. Sistema questa partita. Sistema questa partita. Spirito guerriero. Eh. No. Va bene così. Cos'è il difensore? Kukulkan serpente piumato. Allora. Io proverei con lo sfondamento. Però se lui ha una tecnica difensiva e probabilmente ce l'ha. Mi frega. Quindi facciamo scivolata. Apollo. Spirito del sole. Armatura. Scivolata scintillante. Trappola di piume. Grande. Grande. Meno male che l'ho fatto. Meno male che ho fatto l'armatura. Ho fatto subito. Ho sprecato un po' di punti. Perché solitamente si utilizza dopo un po'. Ma meglio così. E si va al tiro signori. E si va al tiro. Mi avete detto. Utilizza quelli del Miximax. Ma in realtà. Raggi accecante. È diventato più forte. Di cielo e terra. Quindi per adesso. Utilizzo raggi accecante. Magari se riusciamo a segnare questo. E poi. Avrò un'altra possibilità. Utilizzo cielo e terra. Però per adesso. Contro mani esperte. Ci vuole un bel tiro. Yes. Grande sol. Grande sol. Che l'abbiamo fatta. Ottimo. Uh. 4 a 2. Ristabiliamo due gol di vantaggio. Che ci stanno più che bene. Allora. Facciamo così. Mettiamo lui qua. Troppo vicino. Mettiamolo qua. Allora. Vai. Mmm. Andatelo a prendere. Sol. Bravo. Vai Sol. Perfetto. Perfetto. Scivolata. Vai con la scivolata scintillante. Vai con la scivolata scintillante. Contro la trappola di piume. Bravissimo Sol. Bravissimo. Bravissimo Sol. Con l'extra. Non ce l'ha fatta nemmeno. Bravissimo. Proviamo ancora col tiro. Vabbè. Vi avevo detto che avrei fatto cielo e terra. Facciamo cielo e terra. Cielo e terra. E sbam. 620. Non so. Non mi ricordo poco fa quanto ha fatto. 596. Forse questa volta era tanto quanto se non di più. E vince di nuovo. E segna di nuovo Sol. Bravissimo. Allora. Non so in realtà chi è il man of the match. Di sicuro non JP. Ma sono indeciso tra Sol. Vabbè. L'ha risolta alla fine. Victor ha giocato molto bene. E Gabi dietro ha fatto il devasto. Ventottesimo e 50 minuti. Sì vabbè. E' 50 minuti. 28 minuti e 50 secondi voglio dire. Per questa partita. Che ancora può riservarci qualcosa. Il portiere. Va bene. Ha finito. Riccardo riesce a prendere il pallone. Ma fischia la fine. L'arbitro di questa partita. E quindi abbiamo vinto con un 5 a 2. Un bel 5 a 2 devo dire ragazzi. Un bel 5 a 2. Bella sofferta. Ma poi alla fine abbiamo preso le distanze. Citate la rivincita. Aspetta Goldie. Facile come bere un bicchiere d'acqua insomma. Tripletta di Victor. E Sol ha fatto doppietta. Visto che abbiamo fatto 5 gol. Ok. 5 a 2. Comunque bravi tutti. Tranne JP. Se dovessi proprio fare un reclutamento farei un portiere. Magari Mark Evans. Per cambiare JP. Perché è l'unico di questa squadra che proprio non mi va. Non mi va giù. D'accordo. Devo ammettere che non siete così scarsi. Quel che è giusto è giusto. Avete la mia benedizione. O meglio. Diciamo che tollero la vostra esistenza. Già vi siete guadagnati il mio rispetto. La prossima volta che ci incontriamo vi farò vedere di che cosa sono davvero capace. A presto. E se ne vanno tutti quanti come al solito. Artigli di valore. Ok. Un attimo. Vuol dire che questa volta non è giocato seriamente? No. Non è possibile. Eh. Chi lo sa. Il numero massimo di serve che puoi tenere è aumentato. Va bene. Va bene. Anche se in realtà. Fino adesso non abbiamo mai. Avuto questi problemi. Ha ottenuto un livello link segreto. Vedi extra link segreto. Allora ragazzi. Per questo nuovo extra. Me l'avete già scritto. In realtà c'è bisogno come ben sapete anche dell'altra versione di gioco ovvero tuono. Che però io non ho e non ho la possibilità di farlo almeno per il momento. Quindi non credo di poter fare anche quell'extra. Quindi ragazzi credo che a questo punto gli extra si concludano qui. Se mai, non lo so, io lascio le porte aperte. Se mai dovessi trovare qualcuno con tuono con cui fare il link magari riesco a portarvi pure quello. Però non vi assicuro nulla. Per adesso ragazzi se questa partita vi è piaciuta pollice nel in su. Commentate qua sotto con la DDG. Con tutto quello che volete. Iscrivetevi al canale e attivate le campanelle social in descrizione. Che sono importantissimi per qualsiasi novità. Riguardo le serie di Inazuma e le serie a tutti quanti gli altri giochi che vi piacciono qui sul mio canale. Grazie mille per aver visto il video fin qui. Grazie mille per aver seguito tutta questa serie fino a qui. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao belli. Noi ci vediamo in un prossimo video.